Ben 5 le squadre di vigili del fuoco impegnate tutto il pomeriggio per domare l'incendio che ha divorato un capannone adibito a serra a floroviva istica su fiume Saline in territorio di città Sant'Angelo. Altissima e densa, la colonna di fumo nera sprigionata dal materiale è andato a fuoco. Al momento si ipotizza un cortocircuito all'interno della serra. Diverse abitazioni nell'immediata vicinanza del capannone andato in fiamma sono state evacuate a titolo puramente precauzionale. Anche il traffico automobilistico è stato deviato per agevolare i mezzi di soccorso ma soprattutto per evitare che quel fumo nero venisse respirato da chi si trovava a passare nei paraggi. Sul posto anche carabinieri e polizia provinciale. Manovra è molto delicata per il timore della presenza di un serbatoio di gasolio all'interno della struttura in fiamme. Intanto il sindaco di città Sant'Angelo Gabriele Frudindi ha immediatamente fermato un'ordinanza su disposizione dell'Arta rivolta a chiunque abiti o lavori in zona. Fino a diverse indicazioni, tenere porte e finestre ben chiuse ed evitare di stare in cortili e giardini. Siamo qui fin dall'inizio, ci ha avvertito il sindaco, noi eravamo pronti perché abbiamo una squadra in pronta disponibilità. Stiamo effettuando i cambiamenti per l'analisi della qualità dell'aria. È un incendio molto grande, la struttura è molto grande. Il sindaco ha emanato un'ordinanza di chiusura per adesso, di chiusura di porte e finestre, non utilizzi di giardino ed orti. Quindi attenzione, massima attenzione, nelle prossime ore, nei prossimi giorni faremo sapere i risultati per le componenti nella qualità dell'aria. Anche perché la presenza di plastica qui è molto importante. Sì, ci dicono che c'erano depositi di pancali in plastica di altre strutture che la ditta utilizzava per l'attività che svolgeva. Quindi sono importanti i prelievi per la qualità dell'aria, per vedere che cos'è che sta bruciando e le eventuali conseguenze per i cittadini. Recensita anche su diversi siti di turismo e cultura, la Butterfly Farm nasce come centro di educazione ambientale. Tante le scolaresche che hanno avuto modo di apprezzarvi, al suo interno meravigliose farfalle provenienti da tutto il mondo. Un'idea nata per ricreare un piccolo angolo di ambiente tropicale in una regione verde come l'Abruzzo senza intaccare in alcun modo la biodiversità dell'ecosistema esistente. Ma tutto questo, come vedete, è andato in fumo.